Abbiamo visto della conducibilità idraulica a saturazione e vogliamo parlare della conducibilità idraulica in senso relativo, cioè anche quella che si ottiene quando i suoli non sono saturi. La conducibilità idraulica relativa è un valore della conducibilità che va tra 0 e 1, che va poi moltiplicato per la conducibilità e la saturazione dell'elemento che sto considerando per ottenere la conducibilità idraulica effettiva, efficace, alle varie scale. Intanto una prima osservazione, anche se molto enfatizzata, è che non solo la conducibilità idraulica varia con il contenuto d'aria e d'acqua del suolo, ma, per esempio, può presentare delle forme di isteresi in funzione del fatto che anche le curve di ritenzione idrica presentano non dell'isteria, ma questi fenomeni di isteresi. In genere, però, per quanto riguarda la conducibilità idraulica, è un fenomeno trascurabile, anche per le ragioni che vi ho elencato prima, ovvero che la conducibilità idraulica a saturazione è molto variabile ed è quella la variabilità che conta di più nell'ottenere un risultato credibile, finale. Come per le curve di ritenzione idrica, la conducibilità idraulica si ottiene in modo parametrico. La conducibilità idraulica in funzione del contenuto d'acqua del suolo si ottiene in forma parametrica. in particolare E6, E qui è la saturazione relativa, quella che va fra 0 e 1, θ-θr diviso θs-θr. K con S, invece, che vedete rappresentato qui, è la conducibilità idraulica a saturazione. E come vedete, per il momento escludiamo la parte che sta fra le parentesi quadre, la conducibilità idraulica è in primo aspetto proporzionale alla potenza V della saturazione relativa. Questo V di solito si crepende pari a 0,5, però è un esponente lasciato libero. Poi c'è una parte all'interno della nostra espressione che dipende da una teoria, in particolare dalla teoria di Mualem, di un articolo abbastanza famoso, cioè famosissimo, del 1976, uno dei più citati nella nostra letteratura idrologica. Ed è all'interno della parentesi, vedete il rapporto fra una certa funzione F di S con E, dove è della saturazione relativa, quindi di θ del contenuto idraulico, del contenuto d'acqua del suolo, diviso F1 al quadrato. Questa Fs con E è una funzione abbastanza complicata, in particolare è una funzione che va Fs con E, definita come l'integrale fra 0 ed S con E, di 1 su ψ di x in dx, dove ψ di x è l'assunzione. Quindi la conducibilità idraulica attraverso la teoria di Mualem, di cui rappresentiamo solo i risultati, è una funzione dell'assunzione. Allora, per l'assunzione che cosa possiamo fare? Beh, per l'assunzione potremo usare, per esempio, le curve di Wangen-Ukten. E allora le curve di Wangen-Ukten le possiamo invertire. Le curve di Wangen-Ukten davano S e E in funzione di ψ, però possiamo invertirle rispetto a ψ, sappiamo che hanno questa forma ad S, quindi possono essere invertite, e otteniamo 1 su α, S è la meno 1 su M, meno 1, il tutto alla 1 su N. Allora andiamo a calcolare, dobbiamo fare atto che andare a calcolare, l'integrale di prima, dove al posto di ψ di x abbiamo posto la funzione effettiva di x, che è questa che noi abbiamo scritto qui, e dove al posto di S e E abbiamo sostituito dell'integrando x, perché il termine integrando è muto. si può fare questo integrale o non si può fare questo integrale in forma chiusa? Essere o non essere, questo è il dilemma. Non si può fare in generale in forma chiusa. Di solito per trattare gli integrali di questo tipo si fanno un po' di cambi di variabili, in particolare qui ho preso x e ho sostituito a x, y alla M, e poi si ottiene l'espressione che sta in centro. Non ho pretesa che qui seguiate i passaggi che sono noiosi e anche l'ora, diciamo, certo non lo garantisce. Si arriva comunque all'espressione che vedete in fondo, sulla quale non ci soffermiamo, quindi tanto, la quale si può... L'aspetto, diciamo, principale di questo integrale è che si può integrare in forma chiusa solo se esiste una certa relazione fra dm ed n. In generale, questo integrale non esiste in forma chiusa, però essendo molto comune in molti calcoli in varie discipline, è stato in qualche modo caratterizzato ed è chiamato funzione ipergeometrica 2F1, per esempio in matematica. E quindi, sì, esistono dei metodi numerici con i quali si può calcolare, ma non esiste in generale in forma chiusa. Quindi potrei dire che, per esempio, la nostra funzione è la funzione ipergeometrica 2F1 di SE diviso la funzione ipergeometrica 2F1 di 1, il tutto al quadrato, il nostro termine qui, che compare qui. e poi, ovviamente, avere uno strumento di calcolo che questa curva me la calcola davvero. Però, in generale, la gente si è contentata di meno, per cui, accorgendosi che ponendo m uguale a 1 diviso 1 meno n, si sono spesso semplificate le curve di Bang & Nukten e si è ottenuta un'espressione in forma chiusa, che è quella che vedete in basso, in funzione di m, dove però vale l'uguaglianza sulla destra, e in funzione di questa espressione si ottiene una forma chiusa per la conducibilità idraulica, che è questa KSE alla V, aperta parentesi quadra 1 meno aperta parentesi tonda, 1 meno SE alla 1 su m, chiusa la tonda alla m al quadrato, che viene usata comunemente dappertutto, come se questa fosse quella, la conseguenza della derivazione in base alla teoria di Muale. non guardate la funzione sotto in funzione di K in funzione di PSI, perché questa è solitamente anche non usata, si usa direttamente la forma in funzione di S con E, cioè si fa dipendere la conducibilità idraulica direttamente dal contenuto d'acqua del suolo. Questa è una forma molto comune, quindi si può trovare che la conducibilità idraulica, una volta assegnata le curve di ritenzione idrica secondo Bang & Ucten, ha questa forma funzionale, questa dipendenza da S con E. E questo può essere interessante, perché si possono verificare queste curve, e quindi si può vedere come va l'andamento con teta della conducibilità idraulica. In particolare si vede che la conducibilità idraulica, beh, queste sono curve che vanno, presentano il logaritmo della conducibilità idraulica, osservate sulle ordinate, e quindi il logaritmo va a zero quando la conducibilità idraulica, e stiamo parlando di conducibilità idraulica relativa, va a uno. E vediamo che in queste curve in queste curve la conducibilità idraulica cresce molto velocemente e perché c'è il logaritmo sulla scala delle ordinate, quindi crescerebbe in maniera praticamente esponenziale nella parte finale, ed aumenta quindi molto in prossimità della conducibilità idraulica. Quasi nulla si muove quando siamo insaturi, niente si muove, cioè quasi nulla si muove quando siamo insaturi, tutto si muove quando siamo saturi, quindi cambia radicalmente in funzione della conducibilità idraulica, in funzione della saturazione, e bisogna quindi tenerla conto in maniera esplicita. La conducibilità idraulica, la saturazione, ovviamente è la massima conducibilità idraulica per un determinato elemento. E' interessante osservare come le curve di conducibilità idraulica e le curve di ritenzione idrica si sovrappongono. Qui effettivamente la curva di ritenzione idrica con θ a θ in ordinate è il logaritmo della suzione in ascisse, mentre la curva della conducibilità idraulica ha il logaritmo della conducibilità idraulica in ordinate, e la suzione in ascisse. Quindi bisogna risistemare un po' queste curve e metterle eventualmente a confronto per poi andare a scoprire alcune proprietà interessanti, alcune cose che succedono in funzione della variazione dell'una e dell'altra curva. Ma questo saremo in grado di farlo quando andremo ad introdurre un ulteriore elemento, che sono appunto le equazioni di Richards che della conducibilità idraulica e della suzione hanno bisogno. In generale, in letteratura, a prescindere dalla derivazione che vi ho fatto io e che discende da Mualem, ci sono varie forme della conducibilità idraulica parametriche che vedete qui elencate in particolare, però noi quella che abbiamo ricavato è questa e faremmo riferimento a questa e non alle altre. Però sappiate appunto che nel corso degli anni in letteratura sono state prodotte varie espressioni della conducibilità idraulica. In alcune per altre, la forma di alcune per altre è puramente giustificata, per esempio quella di che è chiamata di Mualem del 1976 con la forma esponenziale quella di Gartner. Sono giustificate dal fatto che assumendo questa forma per la conducibilità idraulica poi le equazioni che si otterranno, che otterremo, che si chiamano appunto equazioni di Richards, in alcune situazioni semplificate sono integrabili analiticamente. E quindi è come dire non è la realtà fisica che diventa importante a questo punto, ma diventa a un certo momento importante ottenere dei risultati sia pure approssimati ma in forma chiusa. Cosa che è meno rilevante ora perché in questo momento noi abbiamo dei computer così potenti che ci permettono di risolvere le equazioni numericamente senza dover fare ricorso a delle soluzioni in forma chiusa come era solo vent'anni fa. rimesse a posto le curve di ritenzione idrica sopra e le curve di conducibilità sotto, questa volta con le ordinate in lineari e con le ascisse uguali, vedete una cosa interessante. la curva di ritenzione idrica beh, curva di ritenzione idrica questa forma ad S se volete rovesciata rispetto ad una probabilità perché per i motivi che abbiamo visto nelle parti precedenti cosa succede? nella prima fase a sinistra il suolo è praticamente saturo però come vedete la conducibilità idraulica diminuisce di quasi dieci volte mentre apparentemente noi non misuriamo nessuna variazione di teta la suzione però varia contemporaneamente. Nel momento in cui raggiungiamo il punto di entrata dell'acqua che è la seconda linea rossa come vedete la conducibilità idraulica si è abbassata di un ordine di grandezza. Succede quindi che in un breve tratto di saturazione rispetto a teta la conducibilità idraulica varia di moltissimo e senza che dal punto di vista dell'assunzione sia cambiato molto. E questo è importante in tutta una serie di fenomeni in particolare nei fenomeni dell'infiltrazione che poi andremo a vedere nel proseguo del corso. e direi che ci possiamo fermare qui per il momento e facciamo 5 minuti di pausa. Grazie. Grazie. Grazie.